Amplificatore Technics stereo integrato su V55A in classe doppia A fine... anzi metà anni 80 e niente... aperto, pulite tutte le manopole che erano durissime, rimesso la pasta sui finali ma qual'è il problema? il problema che persiste è il problema su questo zoccolo qua troviamo un altro di qua a destra, questi come funzionano? sostanzialmente va premuto, questa parte qui va premuta e il flat si toglie viceversa si preme, si inserisce il flat con i vari pin e si molla e lui dovrebbe rimanere incastrato lì il problema è che si lascano allora cosa ho fatto? eccolo qui, l'ho rimosso l'ho rimosso, è questo merdaio qua, vedete? qua, vedete? va premuto e praticamente fa da blocco è un connettore che ha tre, sei, sette, otto pin qua ho fatto un po' di pacciugo perché avevo provato a mantenerlo e saldare direttamente il flat qui ma è stato un disastro perciò piuttosto di aspettare la consegna dalla cina o dover ordinare che ne so un carico da cento pezzi di questo ho saldato il flat direttamente sulla scheda madre eccola qua questo è il flat che adesso è bello fisso non lo tocco non lo tocco anzi magari metteremo un po' di nastro qua che rimanga fermo e così abbiamo risolto che problemi abbiamo risolto? sostanzialmente possiamo riscontrare i seguenti problemi il current drive la spia rossa che non si avvia e problemi sulla sezione di equalizzazione quindi balance che non funziona che magari va più funziona a destra o non funziona a sinistra problemi di scoppiettivo delle casse quando si tocca qua o si premono i tasti perché ovviamente lui leggermente premendo si muove eccolo qua si muove e quindi se c'è un falso contatto qua sentite scoppiare le casse e la cosa non va bene e fa veramente tanto tanto casino questo è il blocco classe AA del current drive qui ho ai finali ho ho rimesso la pasta termica 1,2,3,4,5 e6 si potrebbe mettere la pasta termica anche qui ma ho evitato perché è abbastanza complicato rimuoverlo non tanto diciamo smontare però questa placca qua si riesce anche a togliere ci sono le viti qua a fianco però avevo paura di rovinare ovviamente le basette sui pin lì e quindi non ho cambiato la pasta termica su questo componente qui l'altra cosa fondamentale è la pulizia dei vari selettori che ora girano liberamente senza problemi tutti quanti nonché degli interruttori e ovviamente il potenziometro del volume che adesso è bello libero dopo anni di utilizzo prodotto degli anni 80 ovviamente le prime cose da fare sono queste qua quindi un disossidante elettrico secco preferibilmente secco per le plastiche invece vi consiglio di utilizzare questo prodotto qui della Routen che è molto buono per le plastiche e soprattutto con questo si riesce a togliere quella gomma, quella plastica che appiccica appiccica sui componenti quelle gomme, quelle plastiche che poi quando passate fanno tutto quella colla ecco questo qua è molto buono è un buon prodotto e risolve quel problema là attenzione che è abbastanza corrosivo e quindi poi con il panno pur avendo un panno è meglio mettersi i guanti perché si rischiano veramente di cancellarsi anche le impronte digitali quindi dicevamo ho fatto questa operazione di fissaggio di saldatura rimozione della vasetta e saldatura del flat direttamente sulla scheda PCB per smontarlo beh è abbastanza semplice comunque abbiamo anche qui posso mostrare il manuale tecnico ecco la procedura ecco qua ci sono le cinque viti al lato del cabinet ovvero sono questa questa e le altre due eccolo qua il cabinet ve lo mostro al volo una due i lati eccole qua tre quattro e cinque questo è il retro del cabinet ok quindi ci sono una due tre viti dietro e due ai lati rimuovete questo da sopra via una volta fatto questo c'è da rimuovere questa questa scheda qua ok e si rimuove ovviamente da sotto eccole qua una che adesso manca due tre quattro viti e questo poi si sfila in avanti e lo fate cadere così lo sfilate in avanti e poi cade così se dovete rimuovere anche questa parte qui che è fissata sia con questi morsetti qui di plastica ma prima di toccare i morsetti di plastica dovete sfilare le singole manopole eccole qua quindi una due tre quattro e quella del volume 5 e attenzione qua c'è poi una vite che potete togliere con una chiave a tubo da 11 ok questo anche si sfila sono uno due tre quattro e cinque che hanno poi la vite a tubo da 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 svitare questo tasto qua viene via sfilandolo qua si sfila semplicemente indietro poi dovete togliere questo flat qui uno e due questo qui poi c'è questo qui tre quattro cinque sei e sette questo semplicemente basta qua vedete che c'è la la bandina basta che lo spingete verso in avanti e poi va appoggiato e premuto indietro e questo sostanzialmente per togliere la parte anteriore e poi ovviamente rimuovete abbassate le levette qui in plastica e questo si sfila questa base qui si sfila dalla dalla cornice così potete accedere ai potenziometri e sgrassarli e riattivarli con un disossidante elettrico secco qui c'è una chicca e questo è il potenziometro del volume per accedervi meglio va rimossa questo questo adesivo qua questo adesivo qua poi dietro c'è il forellino per andare a pulire i contatti per quanto riguarda poi l'accesso alla pcb posteriore quindi quello che ho fatto io poi per andare a saldare direttamente questo flat qui che abbiamo detto che è quello che controlla il drive del current drive e la sezione di equalizzazione vanno rimosse rispettivamente queste due viti qua una e due queste altre due viti qua una e due che fanno quattro e poi questa cinque questo poi va ovviamente mancano poi ovviamente da togliere le viti qua sul retro che sono una due tre quattro e cinque dovete togliere anche queste cinque viti qua tornando alla scheda di tecnica abbiamo visto le cinque viti poste esternamente e poi qua ci spiega quali viti vanno rimosse e rispettivamente quali potenziometri manopoli potenziometri da sfilare vi faccio una zoomata qui che vi può tornare utile qua ci sono le informazioni qua vi spiegano lo switch che abbiamo visto prima come va tolto che è rispettivamente questo eccolo lì switch verso l'alto e poi la punta l'estrema va inserita e va poi premuto verso il basso eccolo qua questo è il maledetto attacco il connettore bianco quello lì che appunto vedete removing the flat cable basta premerlo e poi si sfila il cavo con i 8 pin 3 6 7 8 pin però principalmente è quello che si usura e danneggia di più questa invece è la procedura per rimuovere la PCB come abbiamo visto appunto ci sono da rimuovere queste viti qui e poi le plastichine eccole qua le plastichine che sono rispettivamente fatte così eccole qua per quanto riguarda poi arrivare alla PCB ci ricorda che dobbiamo rimuovere 15 viti rispettivamente queste quelle 5 sopra che vi ho mostrato e quelle dietro nonché queste 4 dal lato anteriore sottostanti eccole qua qua mi spiegava anche come rimuovere questo qua però sinceramente la vedevo un po' dura nel senso che si rimuovono queste due viti qui ovviamente a me non andava di fare questa procedura perché allora rimuovendo quelle due viti lì questa vite qui e questa vite qua qua sotto che tra l'altro è montata a rovescio non so perché e questi due qua questo probabilmente riusciamo a togliere sfilarlo però penso sia molto complesso non mi fidavo perché penso sia molto complesso e poi ovviamente per metter bene la pasta questo probabilmente andava un po' piegato verso in avanti e non mi fidavo a fare questa operazione in quanto insomma è un componente molto molto delicato certo cambiare la pasta termica ovviamente su questi tipi di amplificatori che hanno una certa età qua parliamo degli anni 80 primi anni 80 è sempre una buona cosa questo appunto è il componente incriminato non avevo voglia di aspettare che mi arrivassero chissà da Hong Kong alla Cina magari bisognava comprarne anche una quantità tipo industriale però la cosa migliore era appunto di saldare questo sostituirlo e ricollegare il flat di saldarlo non è stato per niente difficile poi ovviamente utilizzando la l'aspira ciuccia stagno si fa abbastanza in fretta poi magari ci si aiuta con dei saldatori con punta molto fine anche se questo qua vi dirò è un 8 volt e ci mette parecchio a scaldare a volte veramente si fa fatica a squagliare lo stagno con questo se no andate con un saldatore un po' più potente questo qua da quant'è eccolo qua 15 watt e magari avete una punta un po' meglio della mia che questa qua è disastrata ma devono ordinarmela non arriva insomma sapete com'è avete quel momento lì che avete voglia di fare questi lavori qua e volete finirli in poco tempo questo qua l'ho preso in mano è smesso per 3-4 giorni quindi considerate che poi passa anche la voglia quindi sono quelle cose che diciamo se avete tutto bello pronto preparato magari riuscite anche a cavarvela velocemente con i pezzi tutto ma tante volte insomma ci si arrangia con la manualità e l'ingegno ora colleghiamo per far due prove quindi io vado qua e mi collego magari sulla aux così provo a vedere se funzionano anche i tasti del selettore di input che sono un'altra gran rottura di palle quella ma una volta che lo aprite sicuramente potrete andare a fare una pulizia anche di appunto questi selettori qui questi selettori qui che sono ovviamente abbastanza semplici da aprire però ovviamente col tempo si possono ossidare e possono creare anche questi dei problemi nella selezione eccomi tornato back in studio adesso faremo un ascolto volevo ricordarvi una cosa che non amo di questo amplificatore che è il tipo di collegamento degli speaker in quanto vanno messi i cavetti dentro questi cosini riluttanti proprio vanno messi in posizione verticale inserito il cavo e poi ruotati cosa che poi si sfasciano e infatti qui ho messo dell'isolante e questa è una cosa un po' bruttina due speaker può pilotarne fino a quattro qua c'è il selettore il main e il remote andrò a testare anche i selettori di input adesso siamo collegati sulla AUX andiamo a fare un play di ascolto quindi attiviamo main va premuto qui avremo la spia del voltage control che si accende quando premiamo il tasto power e poi dovremo aspettare che si attivi il drive quindi proviamo eccolo qui il bel click e adesso proviamo ad andare in play quindi AUX eccolo qua perfetto funziona loudness è attivo tone control balance treble loudness off loudness on bene mi sembra funzioni tutto egregiamente bene questa volta un video diverso dal solito con l'impianto Technics in versione San Salvador Saldador abbiamo visto questo bel Technics anni 80 sempre abbastanza complesso è non semplice risolvere le varie problematiche soprattutto capire quali sono e se sono facilmente riparabili senza avere diciamo attrezzature particolari questa volta è andata bene è stata comunque abbastanza lunga e complessa però è sempre una bella situazione poi sentire un impianto vintage anni 80 funzionare per quanto sia diciamo il suo valore storico o valore attuale o meno bene con questo è tutto vi saluto alla prossima qui col Dave aspetto vostri feedback qualche commento e qualche spolicione dal laboratorio questa volta del Dave è tutto ciao e buona musica sempre grazie a tutti Grazie a tutti